Salve a tutti, stamattina c'erano le elezioni provinciali che sono diventate di secondo livello, quindi votano i sindaci e i consiglieri, c'è stata un'ottima affluenza, credo che però bisogna decidere quello che fare con le province, perché sono un ente importante che può essere da collante tra regioni e comuni, quindi lasciarle allo stato attuale portano poco e nulla, quindi speriamo che ci sia da parte del governo un ripensamento per quanto riguarda i finanziamenti e le funzionalità della provincia e che a più presto vengano riformate in maniera adeguata.